Iniziamo, vai! Allora Giovanni, 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 hai cantato talmente bene, talmente bene, fammi questo piacere, dai, so che tu vuoi dare il massimo, però hai dato, hai dato il massimo anche senza tutta questa roba, o no, perché gli artisti veri, gli artisti veri, fammi dire questa cosa, più grandi sono, più sono insicuri e fragili e Giovanni è un artista vero, fammi parlare a me, fammi parlare a me, e quindi un applauso perché lui è, lui pensa di aver sbagliato una serata, mi ha pensato un po', poi arriva uno stronzetto di così, e si pensi, no, parla lì, fatti, fatti, fatti. Arriva uno così, dice, ah, con i bodyguard, eccetera, lui è arrivato qua da solo, senza i bodyguard, ma è un grande, famoso in tutto, che? L'ho accompagnato io, l'ho accompagnato io. Capirai, che paura non ci fai tu, stiamo trommando, perché te lo dico, mamma mia, che paura, chi è il sindaco? Dove stai? Ma c'è il sindaco stasera, sindaca venga qua sul palco, che mi sono innamorato di lei, venga qui subito. C'avete un sindaco bellissimo. Che stasera, in onore della festa della tamborna, si è vestita da indiani.